Il treno Reggio Express 2426 di Trenord, proveniente da Milano Centrale e diretto a Domodossola, nelle ore 14 e 12, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Rola, Stresa, Berbani e Zollanta. Attenzione! Treno di transito ordinario 2 allontanarsi dalla linea gialla. Il treno di transito ordinario 2 allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione! Treno di transito ordinario 1 allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione! Attenzione! Treno di transito ordinario 1 allontanarsi dalla linea gialla. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.